A partire dal mese di gennaio la nostra vita in Italia e altrove è cambiata radicalmente. Non abbiamo bisogno di riandare a tutte le tappe di questo cambiamento che ha significato passare da una condizione di normale, ordinaria vita quotidiana ad una condizione prima di attenzione, di temore, di controllo e poi di chiusura radicale, questo in tutta Italia, a partire dal 8 e 9 marzo fino a quasi la fine di maggio. Ora ci troviamo di fronte ad una situazione che non è per nulla migliorata, certo mitigata perché le istituzioni ospedaliere, le strutture ospedaliere sono molto più capaci di prima di affrontare questo virus che resta ancora un'incognita in molte parti del pianeta per noi stessi e tuttavia ci dobbiamo rendere conto che fino a quando non si scopre il virus e non viene prodotto in quantità straordinariamente grandi e diffuso a tutti gli abitanti del pianeta il nostro problema non sarà risolto. Quindi da gennaio o senz'altro da marzo noi in Italia e altri paesi nel mondo sappiamo una cosa molto chiara, ovvero che la interrelazione tra i popoli del mondo, tra le persone per ragioni economiche, di mercato, culturali, semplicemente turistiche, di viaggio, le nostre interrelazioni fanno sì che il nostro pianeta sia un villaggio, ovvero che tutti noi possiamo contrarre il virus appunto perché nessuno di noi è chiuso nella propria terra, nella propria casa, nella propria città o nel proprio villaggio al punto di non avere contatto con nessun altro. Questo rende difficilissimo interagire e anche difficile da gestire una condizione che comunque deve essere gestita. Quindi la pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza un elemento importante dei nostri tempi, ovvero non si può pretendere l'isolamento di ciascuno di noi per impedire la immunità, non si può prevedere o anzi desiderare o anzi pianificare una perfetta immunità, occorre prevedere un certo rischio, comunque questo nella vita ordinaria di sempre, siamo esseri umani, non siamo divini. Quindi non è il problema di essere perfettamente immuni, il problema è di controllare il livello di immunizzazione e fare in modo che sia più ampio possibile affinché ciascuno di noi possa sentirsi, se non perfettamente sicuro, non lo siamo mai perfettamente sicuri, ma certamente diciamo in condizioni di operare, fare scelte, costruire la nostra vita come sempre. Ora per far questo finora abbiamo avuto stati, regole, norme, organizzazioni locali, nazionali, internazionali, globali che hanno in qualche modo assistito la nostra libertà di organizzazione della vita e hanno sostenuto le nostre scelte. Il covid, la pandemia da covid-19 ha messo in evidenza che questo modo di operare non è più da solo sufficiente, che occorre un livello superiore o diciamo globale che sia in grado di non solo monitorare questi livelli sanitari di contagio a cui noi, in questo siamo, che siamo insomma viventi in questo momento, ma anche sapere governare o mettere regole che siano stringenti, alle quali tutti i paesi e quindi tutte le società debbano, alle quali debbano corrispondere e adeguarsi. Quindi la pandemia, appunto perché non conosce confini e nemmeno giurisdizione di stati, pone il problema di un governo globale, di un governo del pianeta. E il tema della sanità e della salute legato all'eccezionalità di questo covid si lega ad un altro problema interrelato che è quello climatico. Lo leggiamo praticamente ogni giorno sui quotidiani, lo vediamo e lo subiamo nelle trasformazioni dei nostri territori, soprattutto in questa stagione autunnale vediamo il crollo di ponti, la distruzione sistematica di territori e di vita ordinaria e vediamo come quindi tutta la nostra vita sia fondamentalmente esposta a questi due grossi temi che sono ben al di là dei confini nazionali, quello della salute o quindi della protezione da contagio e quindi un livello, un grado di immunità che sia compatibile con la nostra capacità di decisione, di libertà e la protezione delle condizioni basilari di vita sul pianeta, ovvero la questione climatica. Sono due temi che nessun paese può pretendere da solo di risolvere e nemmeno di mettere all'insicurezza. Sono due temi che ci impongono, impongono a tutto il pianeta di prendere decisioni molto importanti e di grande responsabilità sul presente e che abbiano un impatto sul futuro. Quindi se l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve riorganizzare o rivedere i suoi protocolli, i suoi protocolli di intervento, le sue normative, lo deve fare insieme ai governi ed insieme all'Organizzazione Mondiale, all'ONU, per poter avere un impatto diretto, per poter aiutare e sostenere i paesi. Quindi non solo monitorando, non solo ponendo regole molto stringenti sul modo di operare dei popoli della terra affinché non ci siano o siano minimizzate le condizioni di contagio e quindi dalla produzione all'organizzazione alimentare con regole che vadano rispettate e monitorate dovunque sul nostro pianeta. Quindi controllare il commercio, fare in modo che la salute sia un bene sul quale non ci sia possibilità o giustificazione di violazione in nome di altri interessi, siano essi economici o politici, e quindi avere un'autorevolezza. Questo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non soltanto di impegno e di controllo e di monitoraggio, ma anche la capacità di imporre una serie di modelli di comportamento e indurre gli stati, tutti gli stati, se non altro quelli che sono parte dell'ONU, tutti gli stati che accettino di condividere e di mettere in atto queste norme per la sicurezza. La stessa cosa deve succedere, deve essere fatta con il clima. Noi abbiamo bisogno di un'organizzazione mondiale che faccia lo stesso servizio della, e anzi meglio forse dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in relazione alla questione climatica. Non è possibile che paesi come gli Stati Uniti o il Brasile o la Cina o la Russia possano pensare che il loro territorio sia esclusivamente loro proprietà. La terra è proprietà dell'umanità, viene gestita dai singoli stati, ma non è di proprietà dei singoli stati per una ragione anche semplice, poiché quello che viene fatto, quello che viene prodotto, quello che viene manomesso in un'area come queste del Brasile o degli Stati Uniti o della Russia o della Cina ha un impatto diretto su tutti gli altri abitanti del pianeta. Quindi ci deve interessare come la Cina, come gli Stati Uniti, come il Brasile, come la Russia governano il loro territorio perché il modo di governare il loro territorio ha un impatto sulla nostra vita qua. Quindi è fondamentale comprendere che non possiamo più permetterci il lusso di restare indifferenti a quello che gli altri fanno e a quello che non fanno.